Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, allora grinta, grinta, grinta perché se no ragazzi veramente andiamo in un loop che non va assolutamente bene. Questo è il video editoriale delle pagelle, anzi delle pagellacce, perché ancora una volta come col sassuolo le pagelle sono complessivamente brutte e non potrebbe essere altrimenti per una squadra che ha fatto un gol in quattro partite, non ne ha fatto nessuno nelle ultime tre partite e devo dire ha fatto un punto in due partite contro avversari posso dire secondo me assolutamente alla portata. Sono particolarmente contento che martedì ci sia il derby. Qualcuno dice finalmente finisce febbraio, il mese nero, io non ho queste scaramanzie, queste superstizioni, però vabbè diciamo che il derby è il primo marzo e quindi tiriamo una riga su un mese dove effettivamente abbiamo fatto male, molto male. Francamente troviamo una squadra il Milan che come noi sembra, usiamo la parola crisi ragazzi perché qua nel calcio si usa sempre la parola crisi o comunque in frenata, il Milan reduce a sua volta da due pareggi insomma imprevisti, abbiamo perso l'occasione di affiancarli in classifica, smettiamola di pensare a questa stramaledetta partita col Bologna che dobbiamo recuperare, fingiamo che noi dobbiamo andare in vetta anche con una partita in meno, per andare in vetta anche con una partita in meno dobbiamo, non dipende solo da noi, dobbiamo naturalmente sperare in un certo risultato per quanto concerne Napoli-Milan e poi il Napoli deve ancora giocare a Roma con la Lazio e dobbiamo, domani, e dobbiamo naturalmente battere la Salernitana. Questo è l'obiettivo insomma per il prossimo fine settimana, ma siccome prima abbiamo il derby sono particolarmente contento che ci sia questa partita perché ovviamente chi la perde in crisi, a questo punto sì, e non è che chi la vinca sia uscito dalla crisi perché è una competizione diversa, è la Coppa Italia, però io devo capire fino a che punto siamo insomma in ambasce, siamo in difficoltà. Le cose le vedo, ho visto entrambe le partite, sia del Milan sia dell'Inter, però posso dire che mentre il Milan mi sembra che non riesca neanche più a fare la prestazione, l'Inter la prestazione riesce a farla perché se ha il 73% di possesso palla, tira 19 volte in porta e sta porta non la c'entra mai, quindi come dico sempre come battuta, se i nostri attaccanti vanno a Luna Park in questo periodo e sparano ai palloncini e ammazzano la cassiera. Ragazzi c'è un problema, ripeto la prestazione c'è, è brutta, arruffata, incasinata, ma a me sembra che la prestazione ci sia e manca il gol e siccome il gol è tutto nel calcio è un gran casino, è vero. Forse abbiamo faticato moltissimo, ma questo un po' me l'aspettavo per arrivare da quei meno 7 ai più 7, però indubbiamente non era previsto che rallentassimo in questo modo, almeno non credevo. Prevedevo difficoltà, prevedevo che non avremmo vinto il campionato con la marcia trionfale dell'anno scorso, ma insomma cominciamo ad avere un grande problema davvero, che è quello di non riuscire a segnare, oltre 300 minuti senza segnare. Andiamo con le pagelle, che non possono essere ovviamente belle, dopo Genoa-Inter, perché è un altro 0-0 che sinceramente non mi aspettavo, l'Inter se non aveva problemi erano i problemi del gol, adesso ha il problema del gol e ce l'ha grosso. Allora Andanovic, a Andanovic gli diamo 6, stavolta non credo che ci sia da prendersela con Andanovic, praticamente ha un buon riflesso anche su quel destro che cambia un po' direzione per il vento di Melegoni. Danilo D'Ambroso gli do 6, perché poi alla fine è quello che firma l'occasione più pericolosa, ossia la traversa, devo dire abbastanza clamorosa nel secondo tempo, anche lui insomma non mi sembra in un momento di grandissima forma, però ovviamente il 6 lo raggiunge per la traversa. Entra Caicedo dall'87, invisibile, ma ci mancherebbe, non è che possiamo per 6-7 minuti massacrare già Caicedo, aspettiamo un attimo. De Vrij mi sembra che sia in ripresa, un pochino Ievuolo ha messo in difficoltà all'inizio, poi però gli ha preso le misure, se l'è cavata bene con Callon, io credo che si possa dare 6 a De Vrij. Bastoni non mi è piaciuto ragazzi, Bastoni non mi è piaciuto, 5 e mezzo, è stato impreciso nella costruzione, ha fatto confusione, non mi è piaciuto. Come non mi è piaciuto nemmeno Dunfris, perché un paio di colpi di testa sul secondo palo, poi un tiro preparatogli bene, sparato alle stelle, ragazzi 5 e mezzo. In ombra anche Brozovic, 5 e mezzo, niente da dire, in ombra, in questo momento, malgrado aspettassimo tutti il rientro di Brozovic, per dire ecco con Brozovic siamo un'altra squadra al momento, non siamo un'altra squadra, 5 e mezzo. Barella male, male veramente, devo dire peggiore in campo, in rapporto alle sue qualità gli devo dare 5, perché lo vedo proprio stanco, il più giù di corda, non gli riesce assolutamente nulla. Entrato Di Marco poi negli ultimi minuti senza voto, provato a calciare qualche, a tirare qualche calcio piazzato, ma niente di più. C'ha la Noglu, rasenta la sufficienza, ma gli do 5 e mezzo, perché comunque al di là di aver provato, cercato e essere andato vicinissimo al gol nei primi dieci minuti, mi sembra che sia sparito anche lui, quindi le punte sono state anche servite male, quindi ho bocciato tutto il centrocampo, 5 e mezzo. Vidal è entrato 5 e mezzo pure lui, perché al di là di un buon recupero ho sbagliato un sacco di appoggi, quando Arturo entra male non risolve niente, 5 e mezzo. 5 e mezzo anche a Perisic, è un altro che è stanco, è stato anche ammonito, non è stato il solito treno sulla sinistra, 5 e mezzo. Sostituito da Vessino, Vessino senza voto, cioè non ha avuto il tempo neanche di farsi vedere e veniamo, devo dire, alle punte. Alle punte mi spiace ma devo dare assolutamente 5 ad Alexi Sanchez, dovrei dargli pure 4 e mezzo ma poi vi arrabbiate, allora diciamo che gli do 5. invisibile, semplicemente invisibile, io non l'ho mai visto, mi spiace ma Sanchez che parte dall'inizio non riesce mai ad incidere, cioè questo è un fatto abbastanza acclarato, quindi mi spiace, 5. Credo che abbia inciso solo una volta in Coppa Italia con la Roma, partendo dal credo, adesso non mi ricordo. devo dire che poi dal 73esimo Lautaro se l'è cambiata un po' meglio, gli do la sufficienza perché ci ha provato, ci ha provato subito impegnando il portiere, quindi ci ha provato subito, forse meriterebbe anche il gol perché poi ha fatto comunque sicuramente qualcosa più di Sanchez là davanti, comunque ragazzi non più di 6 sicuramente. Dzeko 6 e mezzo, perché Dzeko devo dire tutto sommato mi sembra sia stato il migliore in campo, ogni azione passa da lui, è vero non ha fatto gol ma ha cambiato spesso posizione in campo, ha cercato di aiutare la squadra, mi sembra che sia onestamente l'unico che si è salvato, lui D'Ambrosio e De Vrij, a parte Andanovic, perché altri proprio non riesco a salvarli e quindi credo che l'Inter non possa fare sinceramente a meno di Dzeko in questo periodo. Veniamo a Inzaghi, Inzaghi devo dare 5 perché la sua squadra non si è da oltre 300 minuti, ingambiano sempre Brozovic, deve trovare per forza altre vie, altre soluzioni, ha sbagliato secondo me a partire con Sanchez, io ho detto in settimana, sarei comunque partito con Lautaro, magari non cambiava niente perché è un momento che tanto non la mette dentro nessuno, anche i cambi mi sono sembrati un po' Tarodivi, oddio a sua disculpa c'è sicuramente il fatto che poi anche quando sono entrati non hanno fatto niente, quindi nulla ci dice che se fossero entrati prima avrebbero cambiato la partita, però ragazzi Inzaghi 5, deve sicuramente trovare altre vie, altre strade nel gioco dell'Inter, ripeto a me sembra di vederla la prestazione, rispetto al Milan che dobbiamo affrontare adesso, a me la prestazione sembra di vederla, però è una mezza prestazione sempre, mezza prestazione secondo tempo col Sassuolo, un quarto d'ora di sofferenza col Genoa, poi prestazione arruffata, ecco l'importante è che la prestazione ci sia, però nel calcio, il calcio è uno sport molto semplice, noi ci rovelliamo su chissà quali filosofie e soluzioni, qua bisogna fare gol e sono molto contento che ci sia il derby perché il derby dirà chi sta peggio, non chi sta meglio, ma chi sta peggio tra Inter e Milano, ciao ragazzi, viva l'Inter e a presto!